La fibromialgia è una patologia cronica e invalidante. Approvato il documento di economia e finanza regionale 2024-2026. Inditolata a Dino San Lorenzo, una sala di Palazzo Lascaris. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Il Piemonte riconosce con legge la fibromialgia come malattia cronica e invalidante. Il Piemonte riconosce la fibromialgia come patologia cronica e invalidante e ne valorizza la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi e la cura. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il testo unificato in materia, sintesi delle tre proposte di legge presentate da Sara Zambaia, Lega, Silvio Magliano, Moderati e Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle. Il Piemonte è tra le prime regioni a dare una risposta legislativa alla patologia che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia, ma che ancora non è riconosciuta a livello nazionale. È una malattia molto impattante che colpisce quasi esclusivamente le donne, purtroppo sta crescendo come malattia e quindi era assolutamente doveroso che il Piemonte cercasse di fare il possibile anche su questo tema. Vengono istituiti l'osservatorio e un registro regionale alla cui costituzione sono destinati 35 mila euro che si occuperà di monitorare l'incidenza e l'andamento della patologia e potrà dialogare con il registro italiano. Il 12 maggio di ogni anno, in concomitanza con la giornata nazionale, ricorrerà la giornata regionale per la lotta alla fibromialgia. Importantissimo anche il tema del reinserimento nel mondo lavorativo, quindi ci saranno dei progetti dedicati a tal proposito. Proviamo con questa legge a chiedere al governo che riconosca la fibromialgia come un lea e che quindi ci sia riconoscimento e dunque un trattamento sanitario. Via libera da parte dell'Aula al DEFR 2024-2026. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 24 voti favorevoli e 13 contrari, il documento di Economia e Finanza regionale 2024-2026. Il documento inquadra la situazione piemontese nell'ambito delle tendenze internazionali e nazionali, ribadendo le politiche da perseguire, già tracciate nel bilancio pluriennale, come il mantenimento della spesa e il livello dei servizi, l'avviamento di un programma di investimenti, la lotta all'evasione fiscale. Nella breve illustrazione, l'assessore Andrea Trunzano ha spiegato che questo documento è in linea con quanto prospettato negli anni precedenti e a breve verrà portata in aula la nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza, NADEF. Inaugurata a Palazzo Lascaris una sala dedicata alla memoria di Dino San Lorenzo. Una sala del secondo piano di Palazzo Lascaris è stata intitolata a Dino San Lorenzo, secondo presidente dell'Assemblea Legislativa del Piemonte, dal 1975 al 1980, morto a Torino il 5 dicembre 2020 all'età di 90 anni, a scoprire la targa commemorativa il pronipote Emiliano di soli nove anni. Il presidente Stefano Allasia e il vicepresidente Daniele Valle, durante la cerimonia che si è svolta in aula, hanno ripercorso le tappe importanti della sua vita politica e istituzionale, ricordando che durante gli anni del terrorismo fu anche minacciato di morte da prima linea e promosse numerose attività per contrastare quel tragico periodo. Il 20 febbraio 1976 fondò il Comitato Regionale Resistenza e Costituzione che ancora oggi promuove quei valori, trasmettendoli in particolare agli studenti delle giovani generazioni. Il personaggio politico della sinistra, torinese, che aveva voluto lottare contro una sinistra malsana che ha creato tanti danni anche alla democrazia, al terrorismo. Oggi quei periodi sono lontani, oggi possiamo riconoscere l'altro valore che ha portato in Consiglio regionale Dino San Lorenzo con i familiari, col Consiglio regionale, con l'associazione ex consigliere, abbiamo condiviso questo momento e da domani i consiglieri si potranno trovare nella sala Dino San Lorenzo. Dino San Lorenzo è stato un grande protagonista della politica piemontese, un costituente della regione, è stato consigliere, presidente del Consiglio, assessore per poi continuare la sua carriera in Parlamento, ma sempre molto attaccato al Piemonte, alla sua Torino in particolare. Un uomo che non solo ha servito alle istituzioni, ma che ha avuto un ruolo determinante perché il Piemonte investisse nei valori della resistenza, nei valori della memoria, che sono valori che appartengono alla nostra Costituzione Repubblicana. Ho saputo che anche le scolaresche che vengono a visitare l'istituzione passano in questa sala, è esattamente il tipo di lascito che la famiglia anche se augurava ed è grata di questa inaugurazione. Allarme tra le associazioni dei volontari del sangue del Piemonte per lo stop alle retribuzioni degli specializzanti che prestano servizio nelle unità di raccolta, deciso da un regolamento del governo. E quanto riportato in aula dal consigliere PD Maurizio Marello che ha interrogato sul tema l'assessore alla sanità Luigi Cardi. Hanno ragione le associazioni, ha dichiarato Icardi. Il regolamento è causa di gravi criticità sulla possibilità di garantire lea trasfusionali ai pazienti su tutto il territorio nazionale. Per questa ragione le strutture di coordinamento regionali ne hanno chiesto la revisione. Rimaniamo in tema di sanità. L'ospedale di Alessandria diventa universitario. Con 38 sì, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione per conferire la qualificazione giuridica di azienda ospedaliera universitaria all'azienda Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Il provvedimento, presentato per la giunta regionale dall'assessore alla sanità Luigi Cardi e approvato con parere favorevole in commissione, rappresenta un percorso parallelo a quello avviato nel maggio scorso a livello ministeriale, un iter più semplice rispetto a quello nazionale reso possibile dalla legge regionale 18 del 2007 sulla programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario. È importante perché ad Alessandria ha sede l'università quindi avremo i primi medici che potranno specializzarsi anche in quell'ospedale è previsto dall'università la costruzione di un campus universitario ed è previsto anche la costruzione del nuovo ospedale Abdi di Alessandria. Celebrati all'aeroporto di Cameri i cent'anni dell'aeronautica militare. Il presidente Stefano Allasi ha partecipato presso l'aeroporto militare di Cameri all'incontro Piemonte tra cielo e terra organizzato dal comando aeroporto Cameri, dal Consiglio regionale del Piemonte, dall'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Novara e dall'azienda Turismo Locale. Un'occasione per illustrare e tracciare un bilancio delle attività realizzate nell'anno del centenario dell'aeronautica militare. Abbiamo voluto onorare l'aeronautica militare anche qui a Cameri come abbiamo fatto a Torino, proprio a Palazzo Lascaris con la mostra sull'aeronautica sui cento anni di vita e proprio qua a Cameri abbiamo visitato l'azienda di Leonardo dove vengono prodotti gli F-35, un fiore all'occhiello italiano, soprattutto piemontese. L'evento a cui hanno preso parte insieme al presidente Allasi anche i consiglieri Federico Perugini e Letizia Nicotra, Lega e Domenico Rossi, Partito Democratico, si è svolto all'interno dell'angara appartenuto all'ex ventunesimo gruppo Volo allestito per l'occasione con il simulatore di volo del velivolo MB339, l'esposizione del velivolo storico Gabarda e il mock-up del velivolo F-104. L'aeronautica è quotidianamente impegnata a compiere missioni al servizio della collettività sia in ambito nazionale che all'estero, non ultimo calamità naturali piuttosto che soccorso a popolazioni in difficoltà fuori dai confini nazionali. E chiudiamo con le immagini dell'albero di Natale allestito in galleria Belvedere a Palazzo Lascaris ricordandovi che venerdì 15 dicembre a partire dalle ore 16 il Consiglio regionale invita tutti i cittadini a un brindisi prima delle feste. Un incontro per grandi e piccini con Babbo Natale, ospite d'onore, con musiche della tradizione, lettura di fiabe, intrattenimento e golosità da gustare. Poiché Palazzo Lascaris è in fase di ristrutturazione, quest'anno l'appuntamento è presso la Palazzina Tournon in piazza Solferino 22, sede distaccata di uffici del Consiglio. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!